Tutto è grazia, tutto è dono gratuito di Dio e del suo amore per noi. Anche la salvezza è gratuita, nessuno la può comprare. E come abbiamo ricevuto il dono della grazia di Dio, così dobbiamo ridonarla agli altri. Così Papa Francesco ha parlato del messaggio della festa dell'Immacolata Concezione prima della preghiera dell'Angelus recitata dalla finestra del suo studio che dà su piazza San Pietro. Maria, la piena di grazia, come la chiama l'Angelo Gabriele, ci mostra che l'essere viene prima del fare e occorre lasciar fare a Dio per essere veramente come Lui ci vuole. E questo mistero dell'accoglienza della grazia, che in Maria per un privilegio unico era senza l'ostacolo del peccato, ha spiegato il Papa, è una possibilità per tutti. Come scrive San Paolo, anche noi siamo stati da sempre benedetti, cioè amati, e perciò scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati per mezzo di Cristo. Di fronte all'amore, alla misericordia, alla grazia divina, riversata nei nostri cuori, ha concluso Papa Francesco, la conseguenza che si impone è una sola, la gratuità. «Perché, se tutto ci è stato donato, tutto deve essere ridonato. In che modo? Lasciando che lo Spirito Santo faccia di noi un dono per gli altri. Lo Spirito è dono per noi e noi, con la forza dello Spirito, dobbiamo essere doni per gli altri. Che ci faccia diventare strumenti di accoglienza, strumenti di riconciliazione, strumenti di perdono. Se la nostra esistenza si lascia trasformare dalla grazia del Signore, perché la grazia del Signore ci trasforma, non potremo trattenere per noi la luce che viene dal suo volto, ma la lasceremo passare per chi illumini gli altri». Grazie. 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 Grazie.